Bentornati amici, si avvicina la fine dell'anno e ho preparato qualcosa di speciale per voi, qualcosa di un po' diverso dal solito. Andiamo infatti a vedere quali sono stati i servizi fotografici più particolari realizzati nel 2021. Bene, andiamo a incominciare. Come voi sapete, io sono solito portare su questo canale contenuti che reputo personalmente, poi ditemi nei commenti se sto andando bene oppure se devo cambiare la traiettoria, ma io tendo a portare dei contenuti che reputo essere abbastanza unici, nel senso che io uso YouTube, lo uso, guardo contenuti a mia volta, mi sembra di vedere una sorta di convergenza, di allineamento sulla maggior parte dei canali fotografici che seguo, nel senso che i contenuti che vanno per la maggiore sono recensioni del prodotto tal dei tali, shooting, quindi magari real life experience, quindi provo il prodotto sul campo, piuttosto che vi faccio vedere uno shooting dall'inizio alla fine, magari con la modella tal dei tali. Però sono tutte cose che rientrano un po' nell'ambito artistico. Come voi ben sapete, io non amo definirmi artista, non mi piace chiamare arte la fotografia perché per me è un lavoro, quindi non voglio sminuirla trattandola come se fosse arte. Sminuirla nel senso che l'arte per come la percepisco io è mi sveglio a mezzogiorno, prendo la camera, faccio due foto. Ecco, non è quello. C'è dietro un lavoro, c'è dietro una serietà, c'è dietro una puntualità sia di consegna sia di tutta un'altra serie di cose, c'è dietro aggiornamento, c'è dietro fatica, quindi non è arte. Per come la concepisco io non è arte. Quindi io qui cerco di portarvi cose che altri non fanno, perché la maggior parte dei fotografi che io vedo su YouTube fanno fondamentalmente portrait, io ne faccio poco di ritratto, quindi già siamo un po' fuori dal seminato. Molti altri fanno automotive, io non faccio automotive non perché non mi piaccia ma perché non me lo chiedono, però questo ci fa gioco perché così vi porto dei contenuti che non avete già visto da un'altra parte. Io non ho mai visto nessuno dei miei colleghi su YouTube fare, per esempio, foto di interni in showroom. Quindi i vari Fabio Porta o Simone Tarka che saluto, bravissimi, li seguo, quindi non è una critica assolutamente, è solo per dire loro hanno la loro nicchia. Io cerco di portare dei contenuti che siano diversi dai loro, perché non voglio andare in competizione sulla stessa nicchia e perché comunque facciamo cose diverse, quindi non siamo effettivamente in competizione. Io non porto i loro stessi contenuti. Vi faccio vedere degli shooting che reputo inusuali perché non ho mai visto shooting di questo tipo su YouTube. Ci sono fotografi che ne fanno, ma non ho mai visto raccontare shooting come questi approfonditamente su YouTube. Quindi andiamo a cominciare. Il primo che vi porto è uno shooting che vi faccio vedere che si è svolto a Monza all'interno di una palestra. Ora, voi direte, ma che cos'ha di particolare questo shooting? Beh, di sé non ha chissà cosa di particolare, però innanzitutto siamo fuori dai soliti ambiti di cui vi parlavo poc'anzi, che siamo soliti vedere sui canali di YouTube. I fotografi più famosi fanno ritratto, fanno automotive, fanno magari sport, fanno magari eventi. Sto pensando a Jared Pollin, magari conoscerete, un canale americano. Lui è di Filadelfia, se ricordo bene e capita spesso che lo chiamino a fare dei concerti anche importanti, ma lì si tratta sempre di arte, si tratta di musica, si tratta di ecco, io faccio tutt'altra cosa. Qui si tratta di un shooting di interni per una palestra, quindi è una cosa, se vogliamo, noiosa, se vogliamo un po' solitaria, perché ti trovi all'interno di questa palestra gigante, vuota. La cosa interessante che vi porto è che si tratta di foto di interni in una location che non si vede proprio tutti i giorni. Nessuno di noi è abituato, penso, a trovarsi di fronte una palestra completamente vuota, meno ve lo dico, io quando andavo in palestra adesso mi alleno da casa, tra covid, balle varie, mi alleno da casa perché così non ho mai problemi. Ho un po' di attrezzi, i miei pesini, la mia panca, mi alleno da casa. Però quando andavo in palestra non c'era mai l'attrezzo che ti serviva libero, quindi già vederla così vuota a me dà un senso proprio, mi si allarga il cuore, dico che bello, è tutta per me, poi non la uso, non sono lì per allenarmi, sono lì per fare le foto, ma è bello anche così, è bello anche così, mi sto comunque allenando il dito. La palestra si sviluppa su più livelli e qui viene il bello perché al piano di sopra c'è la palestra che è comunque bella, tutta linda, pulita, con strumenti molto belli, attrezzi spettacolari, grande, una palestra grande, quindi comunque è un bello shooting da avere a portfolio, non vi nascondo, sono molto contento di questo shooting. Si passa poi ai piani di sotto, ai piani di sotto c'è la piscina interrata con l'acqua riscaldata e con il macchinario per nuotare controcorrente, una struttura importante perché è una piscina interrata che è abbastanza grande e che vedete fra l'altro cromaticamente si presta anche molto perché ha questi blu che fanno contrasto con i gialli, quindi bello da scattare, è stato molto bello. Ovviamente piscina vuota, quindi anche lì c'è un sogno, si entra dentro ed è tutto vuoto e si può stare lì tutto il tempo che si vuole a fare gli scatti, era in settimana, quindi c'era tempo e quindi non c'era tanta gente, comunque abbiamo scelto proprio il momento in cui non c'era nessuno, quindi ho potuto girarmela come cavolo volevo io. Di fianco alla piscina c'era l'impianto termale, quindi questa parte che vi faccio vedere, questa è stata tosta da scattare perché c'era molta poca luce, c'era molta umidità, quindi si trattava di asciugare il frontale dell'obiettivo di tanto in tanto perché si formava la condensa, con la poca luce che c'era io ho voluto comunque scattare in HDR perché per forza, perché altrimenti l'unica lampada che c'era sarebbe stata bruciatissima e le pareti intorno sarebbero state scurissime con perdita di dettaglio abbastanza importante, per cui ho dovuto per forza usare lo scatto HDR in bracketing per tirare fuori delle foto decenti, sono stracontento del risultato perché è difficile tirare fuori una foto del genere e molti fotografi quello sforzo in più per tirarla fuori non lo fanno, non lo fanno perché dicono ma io ho fatto il mio, mi hai chiesto le foto, ti ho fatto le foto, cioè non fanno quel passaggio di dire io ti do una roba top, dicono semplicemente tu volevi le foto, io le foto te le ho fatte. Ecco io non mi fermo a quello, io non voglio darti le foto, non mi accontento di darti le foto, io voglio che tu le guardi e che tu dica cavolo io devo richiamarlo Ferrari perché se no la prossima volta non vengono così, è questo che dobbiamo lasciare a un cliente quando andiamo a fargli delle foto, esattamente questo. Passiamo al secondo caso, qui cominciamo a entrare un pochettino più nel particolare perché se con questo primo shooting voi potreste pensare vabbè è il solito shooting di interni che fai sempre, tra l'altro c'era già un video su questa cosa, se mi ricordo ve lo linko da qualche parte, adesso andiamo un pochettino più nel particolare perché andiamo nell'artigianale e andiamo in un laboratorio di gioielleria, quindi è molto molto interessante. Questa è veramente una cosa che vi metto in classifica, ve lo metto in quarta posizione perché è una cosa diversa dal solito, io personalmente non avevo mai visto un laboratorio di gioielleria, di oreficeria, quindi l'ho trovato veramente molto interessante. Questo è il laboratorio di Fabio Rolla e si tratta di un gioielliere, orafo, di quelli di una volta proprio, quindi lavorano a mano, io ho assistito alla lavorazione ed è veramente incredibile, è molto affascinante come vengono trattati i metalli perché dapprima c'è tutta una serie di procedimenti manuali con degli attrezzi che io non avevo mai visto prima, dei cacciaviti strani, dei martelletti impossibili, delle cose per sistemare, per muovere il metallo in maniera tale che tenga dentro un diamante per esempio, per levigare i gancetti di metallo in modo che tengano il diamante ma che non graffino, quindi tutta una serie di procedimenti veramente affascinanti a cui segue poi un'altra serie di procedimenti per lucidare i metalli, per togliere tutte le imperfezioni e per colorare i metalli, quindi per dare una colorazione particolare, giusta, quella a cui poi siamo abituati quando acquistiamo un gioiello a tutti questi pezzi. È stato veramente affascinante, infatti farò un video dedicato solo su questa cosa, ma in questa sede voglio semplicemente portarvelo come uno dei cinque shooting più particolari che si sono svolte nel corso dell'anno 2021. Vi faccio vedere alcune immagini e vi aggiungo che queste foto verranno utilizzate, anzi vengono, sono già state utilizzate per il sito web del cliente, a fra l'altro vi linko in descrizione i siti web dei clienti dove sono presenti le foto, se sono presenti, quindi nel caso in cui siano presenti vi metterò in descrizione a questo video i siti dei clienti in maniera tale che possiate andarveli a vedere. Ovviamente io metto questi link nell'anno corrente, l'anno in cui sono stati realizzati i lavori, se nel corso degli anni verrà fatto un restyling e magari non sarà più a carico nostro, magari non troverete più le immagini di cui vi sto parlando, al momento ci sono. E questo che vi faccio vedere è il sito web del cliente appunto e queste sono tutte le immagini che sono state realizzate nel corso dello shooting. I video che vedete sullo sfondo parimenti sono stati realizzati durante la stessa sessione, ci è stato infatti richiesto di realizzare anche qualche video e guardandoli una volta arrivati a casa c'è proprio venuta l'idea di dire ma nelle sezioni mettiamo i video di sfondo invece che le foto perché i video si prestano molto di più a far emergere quello che è il procedimento artigianale, nella foto si capisce ma non si vede il movimento, invece qui proprio si ha la percezione del movimento che viene fatto dalle mani del cliente quando lavora tutti questi anelli prevalentemente, erano prevalentemente anelli, si vede proprio questo movimento e quindi abbiamo deciso di optare per il bianco e nero con un font serif, quindi un font graziato per dare quest'idea di solidità e di tradizione al cliente e la cosa è venuta molto bene e il cliente ne è stato ovviamente contento e questo era il quarto shooting più strano del 2021. Proseguiamo e quello che vi faccio vedere adesso è uno shooting che si è svolto all'interno di un comparto industriale, l'azienda si chiama Fresh Tropical ed è un'azienda che sostanzialmente importa in Italia prodotti alimentari esotici, quindi sostanzialmente rifornisce tutti i supermercati etnici sul territorio italiano. Se vi è mai capitato di vedere un supermercato etnico che magari vendeva papaya piuttosto che delle rape strane, piuttosto che degli zenzeri, quasi al 90% si rifornisce da Fresh Tropical che ha la sua flotta di camion e rifornisce tutta Italia, quindi quasi tutti i supermercati etnici vengono riforniti da questo cliente. All'interno del comparto industriale di questo cliente che è situato nei pressi di Corbetta ci sono dei macchinari che servono a smistare, impacchettare e consegnare ai vari camion tutti i pacchetti con dentro la merce impacchettata e messa sotto vuoto. Il servizio fotografico si è sviluppato su più fasi, nel senso che sono state fatte delle foto del personale che non vi mostro qui intanto per un problema di privacy nel senso che non sono ancora state approvate, mancano le liberatorie ancora e quindi non ve le faccio vedere ma tanto sono dei ritratti del personale e quindi non c'è chissà cosa da vedere. In secondo luogo sono state fatte foto degli uffici, foto di interni della sala conferenza che è molto bella e quella ve la posso far vedere. Altra cosa che è stata realizzata sono foto e video del compartimento industriale quindi del magazzino con i muletti con il personale che consegna smista i vari pacchi e con i macchinari in funzione che servono a impacchettare i prodotti quindi ci sono questi macchinari che io ho trovato veramente fantastici nel senso che sono ipnotici, ci sono queste macchine che fanno questo movimento ciclico e ripetitivo e continuano a impacchettare prodotti che poi finiscono sul nastro trasportatore e vengono mandati ai camion per la consegna. Io trovo queste riprese veramente paradisia che me le guarderei per ore. Mi sono messo lì fra l'altro con l'iPhone a fare questi slow motion perché avevo piacere di farli io perché in realtà il servizio non prevedeva lo slow motion e le mie camere non fanno uno slow motion particolarmente intenso nel senso che la camera più prestante che ho in termini di frame al secondo è la Canon EOS 80D che arriva a 60 frame al secondo quindi sì fai un po' di rallenti ma non sta cosa così eclatante. L'ho proprio detto mi metto qui un attimo con l'iPhone voglio fare questa cosa intanto per farvela vedere a voi perché già pensavo di fare un video a riguardo. L'ho proprio voluta fare per riguardarmelo io perché è così bello vedere questi ceci che vengono sparati a velocità su personiche e vederli che cascano così piano. Me lo metterei come salvaschermo del computer guarda se si potesse. È stato veramente uno shooting divertente inoltre si tratta comunque di fotografia industriale quindi è un ambito che a me piace sempre mi è sempre piaciuta la fotografia industriale ti permette di accedere a delle aree che un cittadino normalmente non vedrebbe mai e insomma è una cosa dove nel mio piccolo percepisco l'esclusività della cosa anche se sto lavorando e ho sempre piacere a entrare in questi posti mi piace. Saliamo verso le posizioni più alte della nostra classifica e troviamo lo shooting per forno d'asolo. Si tratta sostanzialmente di un impianto che produce brioche e kraften quindi si tratta di un forno in cui vengono sfornati prodotti surgelati o semilavorati che poi vengono inviati ai vari autogrill alle varie catene che poi non fanno altro che tirarli fuori e terminare la cottura in microonde quindi scongelare dagli un ultimo colpettino. Vengono anche preparati prodotti finiti veri e propri però la maggior parte sono prodotti che poi vengono surgelati e inviati ai vari clienti. Vi porto questo cliente perché nonostante sia il classico shooting alla fine di fotografia industriale ne ho fatti tanti ne ho già portato qualcuno su questo canale quindi avete già visto l'interno di qualche stabilimento dove si è fatta fotografia industriale questo non era diverso da tanti altri che sono stati fatti se non per il prodotto finale. Il prodotto finale che erano appunto questi queste brioche e questi kraffen questi bomboloni con crema cioccolato e non mi ricordo che altro insomma tutti i gusti mille gusti più uno la cosa particolare era proprio questa si vedevano queste brioche questi kraffen che viaggiavano sul nastro trasportatore era una roba veramente bellissima ipnotica vedere tutte queste cose buone perché poi le abbiamo assaggiate c'erano i campioni ci hanno dato un pacco così di brioche da portarci a casa una brioche e un bombolone così freschi non li avevo mai mangiati in tutta la mia vita perché lì veramente sono appena cotti ma proprio nel senso sono ancora caldi non hanno ancora finito di raffreddarsi e tu ne puoi prendere uno e te lo mangi meraviglioso è veramente meraviglioso quanti me ne sono mangiati quel giorno lì è una roba scandalosa spero che nessuno veda mai questo video che lavora lì perché sennò me li fanno pagare tanti gliene ho mangiati è stato veramente un bel servizio fotografico sono stati realizzati anche video nella stessa soluzione ovviamente le foto non sono state facilissime da fare perché alcune aree erano piuttosto buie quindi ho dovuto introdurre il flash e inoltre nelle aree di decantazione dei dei kraften c'erano tipo 60 gradi con un'umidità del 200 per cento stavo crepando letteralmente però è stato un bel servizio fotografico e queste immagini io francamente non le ho mai viste su youtube quindi credo di portarvi qualcosa di veramente unico facendovi vedere questi shooting e degli shooting di qui vi sto parlando adesso di cui non ci sono i video arriveranno perché prima o poi li farò io faccio più shooting durante la settimana quindi faccio fatica a dire faccio più video di shooting alla settimana faccio fatica e faccio uno a settimana di solito perché con i tempi non è che ci sto dentro a fare mille video a settimana qui però pian piano vado a coprire e queste cose particolari se già non ci sono ve le porterò appena avrò l'occasione appena avrò il tempo di le porterò sul canale quindi rimanete sintonizzati anzi è il momento di iscrivervi se non l'avete ancora fatto bene il momento di una menzione particolare perché vi voglio citare lo shooting per questo birrificio e vi faccio vedere una brevissima selezione delle fotografie che sono state realizzate questo non è uno shooting strano nel senso che è un normalissimo still life però ci tengo a farvelo vedere sono contento di come sono venute fuori queste foto perché sono state realizzate non in studio ma sono state realizzate in casa le ho fatte in casa mia perché avevo già un set montato avevo già fatto una cosa con lo stesso set quindi ho utilizzato il set che avevo già allestito in casa mia quindi stanza oscurata strip box della godox messe di lato e un una torcia flash con un soft box che era era l'octabox da 80 centimetri messa frontalmente quindi un setup da tre luci messe abbastanza lontane in maniera tale che la legge dell'inverso del quadrato mi permettesse di avere lo sfondo abbastanza bianco nonostante il prodotto fosse più vicino alle luci stavo pensando di fare uno speciale su questo argomento per l'appunto fatemi sapere in un commento se vi può interessare perché il posizionamento delle luci è cruciale quando si realizza fotografia su sfondo bianco e l'errore che fanno in molti è quello di dire va bene se mi serve lo sfondo più bianco vado ad avvicinare le luci al soggetto niente di più sbagliato se io ho la mia luce il mio soggetto e il mio sfondo se io avvicino la luce al mio soggetto lo sfondo sarà più scuro ancora perché avrò più luce sul soggetto e dovrò bilanciare l'esposizione invece se io vado ad allontanare la luce dal mio soggetto la luce arriverà più uniformemente sia sullo sfondo che sull'oggetto che sto fotografando quindi quando volete lo sfondo bianco dovete allontanare la luce non avvicinarla questo è un errore che facevo anch'io io all'inizio dicevo cavolo non riesco metto più luce avvicino sbagliatissimo bisogna allontanarla la luce se si vuole lo sfondo bianco quindi luci abbastanza distanti shooting semplicissimo perché posizionare la lattina scattare e poi ovviamente post produzione tracciato di ritaglio sono contento del risultato sono ancora più contento perché quando ti mandano da fotografare delle birre capisci bene che poi il costo per rimandarglielo indietro è maggiore al prezzo delle lattine quindi te le bevi bene signori siamo arrivati alla fine vi voglio far vedere quello che è stato in assoluto lo shooting più pazzesco di tutto il 2021 e di questo c'è già il video online ve lo metto sia in descrizione sia vi metto la card qui da qualche parte non so dove vi compara a seconda del device de sopra de sotto comunque c'è già un video dedicato solamente a questo shooting andatevelo a vedere perché è molto interessante anche se è un video che ho fatto tempo fa quindi lo sfondo mi sa che era brutto e non c'erano ancora i capitoli però le immagini meritano quindi guardatelo lo stesso questo shooting è in assoluto la cosa più pazzesca ma non del 2021 la cosa più pazzesca che io abbia mai visto in vita mia perché ci siamo addentrati in una miniera di calce e stiamo parlando di chilometri di tunnel scavati all'interno di una montagna quindi io sono salito su una jeep non so se avete presente jurassic park cioè la jeep dopo che dopo che è stata colpita dal t-rex cioè una jeep sporca coperta di fango coperta di calce eravamo coperti di calce anche noi quando siamo usciti cioè ci siamo dati delle pacche addosso c'era la nube di calce bianca che ci veniva fuori da tutte da tutti i pori dei vestiti ci siamo fatti 15 minuti alla guida della jeep dentro in un tunnel nella montagna quindi voi immaginatevi sei dentro in una grotta e guidi per 15 minuti dentro nella montagna pazzesco e quando siamo arrivati in cima ci hanno fatto vedere la camera di scavo principale io vi faccio vedere questa foto questa è la camera di scavo principale ed è in assoluto la foto più particolare che io abbia fatto in vita mia è anche una delle più difficili vi voglio raccontare perché arriviamo in questa camera e non c'è luce non c'è un tubo di niente quindi io mi metto lì col mio cavalletto faccio uno scatto di prova e dico cioè qui è buio pesto non si vede una mazza di niente quindi ho fatto degli scatti in hdr con il bracketing e in modalità bulba anche perché non riuscivo a catturare la luce abbiamo illuminato per avere più luce ci siamo messi lì con le torce dei cellulari per illuminare la camera di scavo nel frattempo ci stavano facendo la spiega di quello che succede nella miniera hanno anche portato delle torce in più quindi abbiamo illuminato con delle mag light con qualcosa però in fondo in fondo era veramente difficile avere la profondità perché la luce ha una caduta molto alta quindi non si riesce a illuminare fino in fondo illumini bene all'inizio di questa camera di scavo ma non riesce a illuminarla tutta quindi ho dovuto fare diversi scatti e sommarle in post produzione per ottenere l'immagine che vi ho fatto vedere è un'immagine a cui tengo particolarmente primo perché non ce l'ha nessuno nessuno entra in una camera di scavo così e ha dietro la strumentazione professionale se ti capita di entrare in una camera così o sei uno che lavora lì o sei che ne so io un ispettore che sta facendo un'ispezione così però non ti metti a fare foto e soprattutto non ti metti a fare foto professionalmente quindi sì magari fai lo snapshot col cellulare cioè ti metti lì e dici va bene butto lì una foto col telefono e come viene viene però mettersi lì e farla bene col cavalletto in qualità questa in qualità si può stampare grossa così questa veramente non ce l'ha nessuno se non magari qualche mio collega di national geographic però a livello professionale in italia veramente un'immagine che è difficilissimo avere quindi ne sono stracontento è stata comunque un'esperienza pazzesca perché guidare dentro nella montagna vedere questo impianto che era comunque gigante con tutti i macchinari quindi rulli che trasportavano materiale la ruspa enorme che gira in questi tunnel è una roba che fa spavento loro la chiamano la pala fondamentalmente è questa questa ruspa gigante vi faccio vedere anche un'immagine con di fianco la nostra guida per farvi capire la nostra guida era un omino non era un gigante lui era alto 1,72 una roba del genere quindi non era non era michael jordan non era un gigante però faccio vedere una persona di statura normale di fianco a questa ruspa per farvi vedere le proporzioni era assolutamente gigante immaginatevi questa cosa che viaggia a 40 50 chilometri orari in un tunnel sotterraneo ma stretto e imbroccava giuste le gallerie quindi tanta esperienza tanta pratica da parte di chi la guidava io avevo paura ve lo giuro perché pensavo ma questo qui se sbaglia una curva picchia contro una parete qui ci crolla tutta la montagna in testa io veramente avevo paura è stata comunque un'esperienza clamorosa da cui sono uscito con un bel bagaglio di fotografie che nessun mio collega potrà mai avere e con tantissima calce dappertutto nei capelli nelle tasche io vi assicuro che quando siamo usciti eravamo lì in due e quando siamo usciti ci siamo messi a darci delle pacche addosso l'uno con l'altro per toglierci la calce dai capelli dalla giacca io avevo le tasche le tasche della giacca io ho girato la giacca ho fatto così per tirare fuori la calce dalle tasche quando sono uscito da lì una roba che cioè poi è stato disastroso pulire l'attrezzatura ho speso un patrimonio per mandare l'attrezzatura in assistenza da canon per farmi togliere tutta la polvere da dentro perché io sinché si tratta di pulire il sensore con la spatolina ok però era la strumentazione era ridotta in una maniera che non vi dico quindi ovviamente la prossima volta mi porterei un guanto per proteggere aspetta che ci sono quei sacchetti dove tu infili la fotocamera dentro i sacchetti di plastica che te la proteggono un po' dalle intemperie dallo schifo perché obiettivamente così me le sono un po' riempite di schifezze però poi le ho pulite bene quindi vabbè amen così ma eravamo veramente pieni è comunque un'esperienza che rifarei perché una cosa unica al mondo uno stabilimento così grande fra l'altro è il più grande impianto di estrazione di calce in italia e forse anche dintorni quindi è veramente una cosa gigante per quanto io mi renda benissimo conto che esistono generi fotografici magari più appaganti magari voi preferireste vedere fotografate delle belle ragazze ma c'è tanta gente che fa già questo tipo di contenuti io non voglio mettermi in competizione con loro anche perché io non lo faccio di lavoro quello non fotografo non faccio ritratto di professione faccio queste cose qui che sono più caratteristiche anche di me perché io non sono uno che si mette tanto a fare ritratto lo faccio l'ho già fatto in passato ho fatto ritratto sia sia ritratto corporate che ritratto cosplay quindi sono cose che faccio le ho già fatte mi capita di farle ma non è una particolarità che voglio portare sul canale in questa sede perché la particolarità che voglio portare è una cosa che non trovate da un'altra parte se voi andate su che vi posso dire mi viene in mente per il ritratto se andate sull'account di irene rudnik per dirne uno account che a me piace moltissimo lei fa dei contenuti stratosferici per quanto riguarda il ritratto è anche canon ambassador quindi il suo valore è universalmente riconosciuto se andate sul suo canale trovate dei ritratti che sono meglio di quelli che faccio io o come vi posso dire un altro per esempio se andate sul canale magari andate sull'instagram di eric colombo anche lui un fotografo bravissimo lui fa paesaggi fa dei paesaggi allucinanti stellari è più bravo di me a fare paesaggi quindi è inutile che io vi porti la mia esperienza come paesaggista può capitare che io lo faccia lo stesso perché ve la porto però non lo metto nelle particolarità perché c'è già chi lo fa c'è già chi lo fa meglio di me elia locardi se vogliamo dirne un altro sto seguendo dei corsi di elia locardi adesso sul suo sito fstoppers.com bellissimi lui è un professore eccezionale ti spiega tutto in una maniera fantastica io ho imparato già tantissimo da lui anche solo per come espone vedere lui che espone la sua materia le cose che sa già fare bene vedere lui come le espone mi ha già fatto capire molte cose su come posso migliorare come espongo io le mie quindi già solo da cinque minuti che guardi che guardi un suo tutorial hai già imparato delle cose prima ancora che ti esponga dei concetti fantastico elia locardi ha proprio inventato delle cose quello che lui chiama moments in time ovvero lui si mette lì con il suo treppiede e cattura una scena con l'inquadratura giusta perché lui arriva lì e sa già quello che deve fare perché lui è un professionista top d'altronde lui arriva lì e sa già più o meno come si deve mettere quindi si mette lì e poi il cavalletto non lo tocca più non cambia idea perché ha già fatto l'inquadratura giusta facendo tutte le considerazioni che doveva si mette lì fa tutti dei calcoli per avere la parallasse giusta fa tutti dei calcoli per avere l'esposizione giusta in dati momenti della giornata e magari ti fa una panoramica a un'ora del giorno un'altra panoramica un'altra ora del giorno e poi le somma questa cosa è fantastica è fenomenale vengono fuori delle immagini uniche per cui infatti lui è rinomato in tutto il mondo capite bene a questo punto che io potrei anche portarvi delle foto di paesaggio mie perché mi capita di farle ma non di mestiere non c'è un cliente che me le chiede le faccio io magari nel mio tempo libero se sono in vacanza così quindi io posso anche parlarvi di fotografia di paesaggio ma non è un contenuto unico perché c'è chi lo fa molto ma molto meglio di me perché è il suo lavoro quindi ognuno è bravo a fare la sua cosa e poi io studio da da questi fotografi perché sono più bravi di me a fare le loro cose probabilmente adesso parlando di professionisti top magari sono più bravi di me anche a fare le mie cose perché loro sono veramente veramente bravi cioè sono dei docenti loro insegnano cioè eric colombo insegna la canon academy elia locardi insegna su fstoppers e fa seminari in tutto il mondo quindi stiamo parlando di gente comunque coi controcacchi io mi guardo i loro corsi e imparo tutto quello che posso da loro perché la loro esperienza per me è fondamentale cioè si sta veramente sei un nano sulle spalle di un gigante e attenzione quando quando uno studia adesso non è per far pubblicità a me stesso tanto siete già sul mio video nel momento in cui qualcuno guarda un video di uno più esperto è come se acquisisse tutta la sua esperienza cioè magari io ci ho messo anni a capire certe cose perché l'ho fatta da solo magari elia locardi eric colombo ci hanno messo anni a raggiungere quel livello di tecniche di perfezione ve lo stanno regalando in un corso che voi guardate e avete capito tutto quello che loro fanno o quasi tutto poi non avrete magari la loro esperienza la loro mano nel risolvere i problemi però avete capito come hanno fatto determinate cose questo non ha prezzo è veramente senza prezzo perché è una cosa che vi permette di andare lì ad essere quasi alla pari e quindi siete veramente dei nani sulle spalle di un gigante io sono un nanetto sulle spalle di un gigante quando guardo un video di elia locardi e capisco proprio che mi ha lasciato tante cose perché ho imparato un sacco di cose che poi potrò usare e potrò farmi bello come se fossero cose mie in realtà le ho imparate da un altro quindi questo è per trasmettervi quello che è l'importanza comunque di aggiornarsi di studiare tramite i video dei professionisti top nel mondo che però costano oppure tramite video di gente un po' meno top che però fa contenuti gratis come questo e per questo motivo io vi invito a iscrivervi a questo canale perché questi contenuti sono e rimarranno gratis su youtube soltanto per voi signori con questo io vi auguro una buona conclusione di quest'anno che non è stato il migliore della nostra vita per nessuno credo ma neanche il peggiore dai e so che sapete a cosa mi riferisco vi do appuntamento al prossimo video e al prossimo anno ciao